La mia storia dietro la Illy Art Collection è sicuramente la mia vita che è la mia fotografia. La mia partecipazione a questa incredibile collezione è un sogno che si realizza perché diciamo che è una collezione molto ambita dagli artisti e farne parte è sicuramente un onore, un vanto ed è il frutto di una vita dedicata alla fotografia, alla ricerca e alla progettualità. Ho sempre sognato di far parte di questa collezione e quando recentemente sono stato alla Biennale di Venezia dove ho avuto l'onore di partecipare al Padiglione Venezia, di esporre le mie opere, quando guardavo la tavola dove c'erano tutte le tazzine e dicevo che bello la prossima volta ci sarà anche la mia e devo dire che c'è stata una grande emozione, un grande onore perché queste tazzine e questa collezione nel mondo degli artisti è molto considerata e molto stimata proprio per il grande lavoro che Illy Caffè ha fatto nel mondo dell'arte. L'installazione di Bob Wilson ai magazzini del sale credo che sia l'apoteosi di tutto quello che la collezione rappresenta e rappresenterà nell'arte di oggi e anche di domani. Ho incontrato Illy la prima volta tantissimi anni fa quando frequentavo Trieste come artista, ho incontrato il dottore Ernesto Illy a quale fece un ritratto meraviglioso e mi fece capire proprio lo spirito di questa grande famiglia triestina e grandissima stima da sempre del lavoro che hanno fatto nel mondo dell'arte perché è veramente qualcosa di unico e ripetibile.